Potrebbe sembrare la faglia di Sant'Andrea, ma in realtà si tratta di via Muzio-Scevola. Così un segnalatore ha scritto alla nostra redazione per far luce sulla situazione di abbandono in cui versano le strade a Cucurano di Fano. La via è da tempo lasciata al totale abbandono tra buche e spaccature che la rendono estremamente pericolosa ed insidiosa. Ma il problema, hanno spiegato i residenti, non si risolve con un semplice strato di catrame perché le spaccature si ripetono. E' la strada che è ingobbata con delle fenditure notevoli e dove è molto pericolosa perché se una in bicicletta va dentro si può rimanerci la ruota dentro incassata. Il problema non si ferma a via Muzio-Scevola. Nel quartiere fanese, ha spiegato Ludovico, ci sono numerose strade ridotte in condizioni penose, pericolose per chi cammina e per chi va in bicicletta e che richiedono urgentemente un'asfaltatura. Davanti alla scuola elementare di Cucurano, proprio in questa piazzetta qui che è un parcheggio, possiamo vedere subito le condizioni in cui si trova l'asfalto qui vicino, quindi è molto deteriorato, al limite della decenza. Quindi poi si passa di là che è via della scuola, appunto, andando verso la Flaminia si può vedere benissimo lo stato in cui si trova quella strada, anche quella in condizioni indecente. via Po, poi questa qui via Urbino che va verso la chiesa, anche questa non è nelle condizioni ideali, insomma si può vedere. E poi prendere via della stazione, dovevano farle delle asfaltature, sappiamo, poi c'è stato il Covid, si è bloccato tutto, però adesso a che punto siamo? Voglio dire, vogliamo riprendere questo discorso e portarlo a termine. Quando anche di notte si va a letto, si sentono le persone con i motorini che filano troppo forte, a parte quello, dipende anche da su e giù della strada, con il camion, dagli sei la mattina fino alla sera tardi, si sente sempre queste cose. L'asfalto comincia a rompere, dopo si scretola continuamente, infatti si vede l'asfalto nuovo, nuovo, l'ultimo che hanno fatto, che è sopra, si apre quello sotto, e sotto dopo diventa lo scalino, e lì è pericoloso, e allora bisognerebbe fare qualcosa. C'è poi anche la questione delle fogne, completamente intasate. Alcune, ci dicono i residenti, sono diventate vere e proprie fioriere. È chiaramente un problema da affrontare per tutta la sua generalità, perché non può darsi che non ricevano più l'acqua, e quindi può essere un problema se può venire un acquazzone violento, ci sono le fognature da tenere bene in considerazione. Un'opinione nostra che il Comune non è molto attento alle condizioni della cittadinanza di Cucurano.